Oggi utilizzerò questa, quindi versate nel boccale tutta la farina, unite le uova, razionate il bimbi 4 minuti, spiga, avvolgete la pasta nella pellicola e lasciatela riposare per 15 minuti. Mescolate gli spinaci cotti con la ricotta, parmigiano, il sale, un po' di pepe e ancora dell'uova. Lavorate gli ingredienti tutti insieme, otterrete questo composto. Prendiamo il pezzo di pasta e lo stendiamo con l'aiuto di un mattarello prima e poi io mi aiuterò con la sfogliatrice, sfogliatrice scusate se ce l'avete, altrimenti la stendete con il mattarello bella sottile. Prendiamo il ripieno, così, lo adagiamo nella pasta. Righiudete la sfoglia in questa maniera. A me mi viene male perché sto facendo il video, quindi, però, così. Formate i vostri ravioli e successivamente ritagliate bene tutti i bordi. Così. 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 E lo 건�iclato! Così.